Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il vostro Dragon Earth 22 E quest'oggi siamo qui tornati su Snapper Elite Nazi Zombie Army Trilogy per continuare la nostra missione Eravamo alla fortezza Ok eccoci qua alla nostra stanza sicura e possiamo partire Possiamo proseguire questo bel cammino dentro questo posto tutto horror Ho dovuto abbassare un po' la musica perchè mi stava distruggendo i timpani Cos'ha? Oh guarda finchè non mi attaccano continuate a farvi tritare Sì Metti fine a tutto questo, ma chi è che parla? Eh come si fa? Che devo fare? Nessuno mi dice mai niente Eh qua ci sono i fulmini E le saette Cos'è questo? È questo Ah Si va su di qui Ah No Ho sbagliato lato Ah va bene Di qua di qua Ma questi fulmini fanno senso Guarda eh Non avrei Non avevo dubbi anzi Dov'è che parla? Ah lì sopra Ci ho tre porte qua Non mi convince tutto questo Sì Ok ho i brividi Ok Cerca gli esplosivi nel castello Dai dai Tanto non ci sarà nessuno Queste? No Come ora apri le porte? Ah queste porte La mira pistola in mano Oh mio dio Santissimo Lo sapevo che si alzavano pure questi Ma mannaggia la miseria No Azius Oh Maledetto Preso No Ok Pian pianino Eh va bene Aspetta Perfetto Penso che qua ci sia il primo Ah posso aprire altre porte Stai fermo Non aprire niente Ah Vedi Le abbiamo trovate Di qua che c'è? Scale cose Io non scendo E' giusto Sì per no vado prima avanti No ci sono altre porte aperte C'è altre porte da aprire Ah Salve Merda 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 Ho sbagliato Eh ma i colpi rimbalzano Dai Mannaggia Questi sono tosti Da far fuori Ma Però esplodono Azz Aspetta Vediamo se questa qua va meglio E no Ah sai che ti dico E allora Vaffanculo Perfetto Dai Veramente Soltanto uno Sparo nei piedi Vaffanculo Vai per terra No Ok Vai per terra Vai per terra S'è rotto Meno male E qui non c'era niente Che cos'è? Cos'è? Un ruto No dai To Che rimbalzo Boom E lei? Dove è saltato fuori? Abbiamo gente che gioca All'ombra di mordo Va bene Quando ora è uscito All'ombra della guerra Giustamente Mi è venuto per? Azz E l'errore Lo facciamo sempre noi tanto Tanto Vabbè Non ci sono oggetti Ma 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 vaffanculo Ma va 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 Come si trovano Gli esplosivi? C'è non per cosa Ma Ma va però Ci potrebbe essere un'indicazione Oh Madonna Eh Che palle Però sti scheletri Ah qua ce ne sono altre Ok Però penso che quello lì Non riuscirà a resistere Tutto questo tempo Non so perché Ho questa sensazione Oltre due Dovrebbero bastare Qua è chiuso Qua Permesso Va bene To C'è veramente Aspetta Dipende come Riesco a colpire Il loro interno Calcialo via Madonna Non c'è niente qui No Munizioni niente Dai però Ma no Io col cavolo Che scendo qui In questi luoghi Anche se No Pensavo mi segnasse qualcosa Ma dai Non è giustamente Dai Come se non bastasse Eh Il botto di capodanno abbiamo Non so dove cercarla Io L'ultime due Eh Cosa c'è No Shotgun Non mi interessa Eh Ma io non ne trovo Squilla un telefono Cosa Cosa Perché mi sono visto io Infilzato No no Ma qui Si apre No 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 Non vi alzate Signori non vi disturbate Che centro perfetto Ancora ce n'è che si No non vi alzate Dai Non c'è motivo Comodi signori Comodi Però vorrei anche Un bel pacco Di munizioni Ah Altro esplosivo Almeno Portami gli esplosivi Trovo una sala D'emergenza Sento passi pesanti Guarda caso Sarà qui No non è qui E' là di fronte Adesso la situazione Si complica qui Dov'è Ecco lo là Allora se riesco a mettere A segno Tutti i colpi Tutto il quantitativo Di colpi Necessario Il signorino Dovrebbe Morire Però l'elmo Non sta partendo La cosa mi preoccupa Ah meno male Allora Era giusto così Torno indietro Di corsa Correndo Ok Eccola qui La stanzetta Che bella Con questi dipinti Cosa sto vedendo Va bene Hitler Va bene Va bene Credo di aver visto Tutto ormai Salve Ah Uno Ma sono quattro Si Due Mi sa che dobbiamo Fuggire poi Tre E quattro Come Mi metto in salvo Allora Mamma Fuggi Fuggi Aia Come si Come si scende Ah di qua No Sto Sto sbagliando Tutto Eee Si Ah Fanculo Ho capito Adesso Ah Scoppia Tutto Scoppia Al Photo Finish Ah Merda Ce l'ho fatta Però Che schifo Un topo Oh Madre To Per voi Perché Non è Esplosa Ok Adesso C'è Perfetto C'è C'è Un modo Di Ah Tieni Premuto Eh Si Domani Mattina Mori 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 Oh Dai giù Ma va Fan Ciullo Ma basta Via Tieni Tieni Premuto Per Sbloccare La Porta PJ Tasti PJ Tasti Vai In fretta Però Stai toccando Il nulla Sbrigati Ma io me ne voglio andare subito di qua Subito Pieno di esplosivi Qua succederà qualche altra cosa Te lo dico io Nel modo di fuggire Sopravvivi all'assedio finale mortale Sicuro? Obiettivo completato Nuovo obiettivo Metti in sicurezza l'aria Ah Aspetta Ma io ho questa Quindi è tutto fattibile allora Easy Maledetti Spara Spara In mezzo alla mischia Disintegra tutto Scatta tutto anche Ma dobbiamo togliere l'esplosivo di turno No lui lui Guarda Guarda E tanto c'ha qualche Da qualche piccolo segno di cedimento Il free frame Aspetta Splodighi là accanto va Fammi questa cortesia Eh Così è troppo facile Merda Fanculo Veloce Ah Arriva Viene un altro Va bene Vi ammazzo Vi ammazzo Boom Non ti colpia questa MG42 Però scusa Ma non finivano mai Salve Ma quando Rifornimenti Ma vaffan Io me ne vado E altro che rifornimenti L'importante è che ho distrutto la fortezza Eccola Eccola Uh Si sta riaccendendo Cosa Cosa Ah Eeeh Cos'è diventata E ride Cosa c'hai da ridere Dimmi cos'hai da ridere Dunque ragazzi Io direi che questo video può finire qua Capisco che sarà stato un po' più corto rispetto a quello precedente Però la missione era questa Non pensavo durasse così poco alla fine Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento o mi piace Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Condividete il video con i vostri amici E noi ci vediamo con un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti